Con il nostro verde scuro abbiamo contornato le nostre foglie, adesso con la stessa tecnica andiamo a contornare gli altri fiori, iniziamo con questi fiori rossi, come contorno usiamo questo rosso cardinale, rosso scuro abbastanza acceso, quindi con il nostro pennello sempre a punta piccola andiamo a contornare i nostri fiori, quindi come sempre lo agitiamo e lo versiamo nel nostro piattino di carta e con il nostro pennellino andiamo quindi a contornare i fiori rossi, ok una volta abbastato quindi il rosso cardinale tutto intorno ai nostri fiori rossi continuiamo il nostro lavoro applicando un viola lungo tutti i fiori viola, in questo caso io uso questo viola del pensiero e come sempre lo agito e lo verso un po' nel mio piattino di carta, quindi con il nostro pennello a punta molto piccola andiamo quindi a contornare i nostri fiori viola, ok quindi contornati i fiori viola adesso passiamo a contornare gli ultimi fiori che ci rimangono, cioè quelli gialli, in questo caso io userò una combinazione di due colori, cioè prima userò questo grano, questo giallo grano unito al nostro rosso cardinale per renderlo un po' più scuro, quindi come sempre il nostro giallo lo agitiamo e lo versiamo nel nostro piattino di carta e uniamo una punta di rosso, ok? E con il nostro pennellino a punta andiamo quindi a mescolare i colori e quindi a contornare le nostre margherite, ok quindi abbiamo finito di contornare tutti i nostri fiori e io adesso come ultima decorazione voglio applicare questi strass di diverse dimensioni lungo tutte queste zone, questa zona e lungo diciamo tutto intorno a questi piccoli fori, in realtà questi strass hanno già, sono strass adesivi ma io non è che mi fido molto di questa colla, quindi uso una colla extra forte, la colla extra forte è una colla simile all'attac che va bene per qualsiasi superficie anche sul tessuto, quindi che facciamo? Prendiamo la nostra colla, la apriamo e la versiamo un po' nel nostro piattino di carta, ok? Aiutiamo e con il nostro pennellino a punta piccola andiamo a fare dei piccoli puntini in questa zona, prima ci concentriamo sulla zona centrale dove io applicherò questi strass più grandi. Ok quindi dopo aver applicato la colla in questa zona abbiamo quindi applicato i nostri strass, le nostre perle grandi in questa zona. Ora con la stessa tecnica mettiamo un po' di colla lungo tutto intorno a questi fori e andiamo ad applicare questi strass un pochino più grandi. Quindi come prima mettiamo la colla tutto intorno e poi applichiamo gli strass e la colla non vi preoccupate perché la colla quando si asciuga diventa trasparente e quindi non si vede. Ok quindi dopo aver messo la colla abbiamo messo le nostre perline sulla colla e queste sono più piccole rispetto a queste, abbiamo quindi lasciato asciugare e questo è l'effetto che abbiamo ottenuto. Ora con la stessa tecnica mettiamo la colla in questa zona, quindi qui e qui, fino ad arrivare appunto ai nostri fiori rossi. Quindi riprendiamo la nostra colla extra forte, la apriamo, la versiamo un po' nel nostro piattino di carta e con il nostro pennellino a punta andiamo quindi a mettere la colla in queste due zone fino ad arrivare ai nostri fiori rossi, lì ci fermiamo. E come strass, come diciamo perle, usiamo sempre queste, diciamo, di medie dimensioni, non quelle grandi ma neanche quelle piccoline, queste intermedie. Ok, quindi abbiamo messo la colla in queste zone e abbiamo applicato quindi le nostre perline, quindi questo è l'effetto finale. Ora rimane solo da applicare la nostra protezione, il nostro fissante protettivo. Dei fissanti protettivi esistono di due tipi, sia in crema che in spray. La differenza tra questi due tipi sta essenzialmente nel modo di applicazione perché il fissante in crema è liquido, quindi va applicato con un pennello a sedole piatte, mentre il fissante in spray è appunto spray, quindi basta semplicemente sfruttarlo sulla superficie. Io personalmente mi trovo molto molto meglio con il fissante in spray perché è molto più comodo e veloce sia da applicare che da asciugare. Infatti si asciuga veramente in maniera molto rapida. Di fissanti protettivi si sono sia lucidi che opachi a seconda dell'effetto che volete dare all'oggetto e in base anche ai colori che state usando e che avete usato per la decorazione. Quindi io adesso andrò ad applicare questo fissante lucido, questo fissante spray lucido e questo va prima di tutto agitato e poi da una distanza di circa 30 cm lo applichiamo su tutta la superficie, sia questa che questa. Io vi consiglio di applicarlo fuori di casa, quindi su un balcone o in finestra perché ha un forte odore e quindi potrebbe dar fastidio in casa. Quindi adesso applichiamo il nostro fissante. Prima di applicare il fissante voglio dirvi una cosa, io in questa parte dell'oggetto non l'ho decorata, non ho applicato fiori o cose o altre decorazioni, però ovviamente voi siete liberi di farlo senza problemi, io mi piaceva solamente decorare una faccia da sola. Quindi adesso appunto andrò ad applicare il nostro fissante. Ok, quindi l'oggetto terminato si presenta in questa maniera. Quindi con questo ultimo passaggio il tutorial è finito, spero vi sia piaciuto e al prossimo video, ciao! Grazie a tutti!